Purtroppo questo popolo non c'è più, è stato completamente coperto da una diga che ha voluto copertarlo. Era in un posto veramente meraviglioso, da Tigre, da Uffrate, da Uffrate. E quindi abbiamo scritto questa canzone, Giasmi ha messo il testo, ha messo una parte improvvisata, e il testo è molto toccante. Io ho pensato, scrivendo questa musica, a un esodo di persone che portavano con sé la propria storia sulle spalle e camminavano arrivando poi dalla tristezza a una danza comunque piena di orgoglio di quello che siamo e che siamo stati. Amin 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti